Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Deloven. A cosa serve? Deloven ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere del microcircolo. È commercializzato in Italia dall'azienda Delos Pharma. Informazioni commerciali. Titolare. Delos Pharma. Concessionario. Delos Pharma. Categoria di appartenenza. Integratori per il benessere del microcircolo. Forma farmaceutica. Compressa. Confezioni. Deloven 30 compresse da 1,3 g, 39 g. Indicazioni. Ippocastano e vite rossa. Favorisce la funzionalità del microcircolo. Rusco. Coadiuva la funzionalità del microcircolo, pesantezza delle gambe, e la funzionalità della circolazione venosa, funzionalità del plesso emoroidario. Amamelide. Favorisce la funzionalità della circolazione venosa, funzionalità del plesso emoroidario. Modalità d'uso. 1. Compressa al giorno preferibilmente lontano dai pasti, con un poco d'acqua, o sentire il parere del medico. Descrizione e caratteristiche. Integratori alimentari a base di diosmina, ipocastano, rusco e amamelide. Con vite rossa, vitamina ed esperidina da citrus, utile in caso di carenze nutrizionali o aumentati fa bisogno di tali nutrienti. Avvertenze. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose. Conservare in luogo fresco e asciutto, evitando la euroesposizione diretta alla luce del sole. Il termine di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Non utilizzare oltre tale data. Ingredienti. Diosmina, agente di carica. Cellulosa microcristallina. Ippocastano, esculus, ipocastano, melle, corteccia, es, tit. 3,5% escina, citrus, citrus maxima, burm. Mer. Et citrus paradisima quad. Et citrus aurantium var. Dulcisaine pericarpo, es, tit. 50% esperidina, rusco, ruscus aculeatus L, radix, es, tit. 5% roscogenina, vite rossa, vite svinifera L, folium, es, tit. 5% polifenoli, amamelide, amamelis virginiana L, folium, es, tit. 10% tannini, agente antiagglomerante. Amido pregelatinizzato. D-alfa tocoferolo acetato, agente antiagglomerante. Mono e di gliceridi degli acidi grassi. Agente stabilizzante. Silice biossido. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.